buonasera a tutti e buonasera ad andrea tarabbia con il quale parliamo di questo libro che io ho trovato duro ma estremamente necessario per una quantità di motivi di cui parleremo nella prossima mezz'ora che è il demone a beslan pubblicato da bollati borenghieri riedizione di questo stesso libro uscito dieci anni fa ma riedizione che conserva una sua attualità veramente potentissima ciao andrea benvenuto ciao e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano allora questo libro che è narrativa allo stato puro per quanto affondi in modo veramente totale dal dalla cronaca e quindi siamo nella piena non fiction direbbe qualcuno racconta e ricostruisce fondamentalmente attraverso tre punti di vista uno più due ciò che è accaduto durante i tre giorni dell'assalto del quale ci ricordiamo tutti alla scuola di beslan che era l'inaugurazione dell'anno scolastico tra l'uno e il 3 settembre 2004 in ossezia dove un comando di 32 terroristi ceceni fondamentalisti islamici prevalentemente aveva preso in ostaggio 1127 persone poco meno di 1200 sì di cui 900 erano studenti tra i sei anni e 18 quindi dal da quell'assalto durato appunto dalla mattina del primo settembre fino alle 13 04 del 3 settembre quando le forze speciali delle dell'esercito russo avevano fatto irruzione e anche di questa cosa diremo c'erano stati 334 morti complessivamente tra adulti e bambini 727 feriti pochi erano usciti indenni fisicamente nessuno psicologicamente e soprattutto erano morti 31 di quei 32 terroristi a questo 32esimo andrea attribuisce un una nuova identità e qui siamo nella fiction e lo trasforma in una voce narrante dal carcere dove attraverso un diario che di fatto è un flusso di coscienza nel quale si inseriscono gli altri due punti di vista di questa vicenda uno quello di un bambino ostaggio lì dentro e l'altro quello di un mendicante di una persona che non ha neanche stabile mentalmente potremmo dire che se ne sta su marciapiede lì fuori non capisce neanche bene che cosa succede ma in realtà racconta tutti questi movimenti di di eserciti persone eccetera con una grande spontaneità e gioibilità allora il dove sta la necessità l'urgenza e la grande attualità di questo libro che al di là del fatto di cronaca è veramente un grossissimo ragionamento sul male e che genera una quantità di domande alle quali ognuno dei protagonisti cerca di dare delle risposte ma di fatto non esistono queste risposte e allora la prima domanda che ti faccio è questa cioè tu hai trovato delle risposte e dove sta l'attualità del non tanto del ragionare sul male ma l'urgenza oggi di ragionare ancora sul male su questo tipo di male allora guarda delle risposte non lo trovate e aggiungerei grazie al cielo perché se avessi trovato le risposte non scriverei libri cioè alla fine uno si pone delle domande le butta nel vuoto sa benissimo che non riuscirà a dare delle risposte ma avrà solo al limite delle domande sulla domanda e così via all'infinito questa cosa è la macchina che in qualche modo ti permette di scrivere no e e quindi di fatto cioè io non lo voglio trovare le risposte a queste queste cose qua voglio continuare a fingere di volerle di volerle trovare attraverso attraverso la letteratura attraverso la narrativa sia quella che leggo che quella che poi a volte mi capita di riuscire di riuscire a scrivere la questione dell'attualità del male sai allora la la letteratura nasce in quel in quel solcolino io mi ricordo mi sta venendo in mente una cosa che a cui non penso da settimane una delle epigrafi che sceglie Nicola la gioia che mi pare sia stato tuo ospite recentemente a donnaio esatto che siamo ancora in questo filone di non fiction di esatto esatto nella cronaca ma esatto lui se ti ricordi una delle epigrafi che sceglie del per la città dei vivi perché poi sono molte ogni parte ha un epigrafe è una frase se ricordo bene di Andreotti che dice a Roma il 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 delitto insomma il il male c'è sempre stato basti pensare che all'inizio i cittadini di Roma erano due e uno uccise l'altro no quindi il il male è la 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 matrice di 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 quasi tutto quello che noi riusciamo riusciamo a raccontare e quindi in realtà la letteratura è in sé l'indagine sul male inteso in senso lato cioè non inteso solo come violenza come quel come nel caso mio no ma anche semplicemente non so negli amori nelle storie d'amore che vanno male no anche lì c'è una componente di 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 stortura della 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 realtà e della e della e della bellezza o insomma le cose non vanno come devono andare e in quel principio lì sta la la possibilità di raccontare di raccontare una storia e io guarda rileggendo il demone nei mesi scorsi per per rimetterlo insomma in circolazione avevo un po questa paura perché dicevo siamo nel 2021 è una cosa che è successa nel 2004 il ragionamento stupido era non c'è nemmeno l'anniversario vero non sono nemmeno passati vent'anni quindi chissà come verrà accolto il libro chissà se qualcuno penserà che non ha senso che venga ripubblicato il libro del genere in realtà poi le le questioni da qui da qui parte il libro sono talmente come dire elementari nel senso che sono proprio le questioni base cioè il perché fai del male a qualcuno che cosa prova una vittima innocente quando viene 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 prevaricata che un verbo sbagliato ma insomma sono talmente come dire appunto elementari originali originarie che secondo me è un libro che ha ancora delle cose da dire nonostante il fatto che appunto la cronaca dopo 2004 insomma di chiese di cronaca pesanti tanto quanto quello di pesante sono successi purtroppo appalate quindi insomma stiamo in continuo aggiornamento dal punto di vista ma le domande che ogni caso di questo tipo pone sono sempre quelle perché sono domande radicali e quindi il libro è in qualche modo ancora vivo grazie a quello ma infatti tra le considerazioni più vogliamo basiche ma allo stesso tempo più spiazzanti appunto sul male sull'incapacità di comprendere il male ci sono quelle che fa il bambino che è un bambino di invenzione però è incarna tutti i bambini che sono stati prigionieri in quei tre giorni quei due giorni e mezzo sì io volevo volevo questo bambino si chiama petia alla fine me lo sono inventato perché volevo che che ponesse all'unico terrorista sopravvissuto cioè al cattivo a quello che per lui è ovviamente il cattivo che ponesse le domande più naif possibili cioè perché mi vuoi uccidere che cosa ti ho fatto io di male no e davanti a queste domande qui che sono le domande più che che un adulto come come possiamo essere noi potrebbe anche quasi definire sciocche no banali però mettono a nudo un atteggiamento perché davanti a un bambino che che ti fanno domande al genere tu non gli puoi dire sai perché i nostri popoli sono in guerra sai per il bambino non ne frega niente non capisce magari nemmeno il motivo che cosa vuol dire che tu fai un atto terroristico perché sei in guerra non è detto che lo capisci lui capisce semplicemente che hai fatto del male alla sua mamma hai fatto del male alla sua sorella cioè riporta di nuovo al grado zero dei rapporti umani delle cose delle cose che che su cui noi ormai costruiamo tutta una serie di sovrastrutture eccetera e quindi era un modo petia per 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 denudare completamente quella vicenda lì per riportarla proprio alla semplicità estrema alla di nuovo la radicalità estrema e quindi è stato molto molto è una brutta parola ad usare è stato molto utile la figura di petia perché quando io cominciavo a partire per la tangente quando cominciavo a fare discorsi sociopolitici perché poi di fatto la tragedia di beslan ti chiama anche quello c'era petia che che riportava tutto su un grado di 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 semplicità di naturalità e che quindi faceva ritornare il libro tutto il discorso che si imbastiva sul libro a come dire alle vere domande basilari ma infatti anche lui se non sbaglio che dice a un certo punto chiede siete soddisfatti di quello che avete fatto se si lo chiede a marat a un certo punto dice sei contento di quello che hai fatto dopo una delle stragi delle stragi delle esecuzioni che vengono che vengono che vengono fatte in quella palestra città gli chiede vabbè adesso sei soddisfatto sei contento stai meglio rispetto rispetto anche qui e di nuovo in basso questa questa cosa e poi tra l'altro il che cosa c'entrano i bambini è la grande domanda che c'è dall'inizio alla fine alla quale nessuno sa rispondere perché le domande che vengono abbozzate da da diversi punti di vista ma soprattutto da da parte dei terroristi non sono risposte perché quella forse più articolata è certo sì perché questi bambini sono gli adulti di domani sì però adesso sono dei bambini sì e sì no questa tra l'altro è una delle risposte che insomma facendo il lavoro di documentazione che ho dovuto fare per costruire del libro è una delle delle cose che ho letto quindi qualche modo dovevo trovare il modo di riportarle perché qualcuno questa cosa l'ha detta no cioè davanti a chi ti dice cosa c'entrano i bambini con con la tua vendetta con quello con la tua guerra giusto sbagliata che sia non c'è una risposta perché i bambini non c'entrano niente però qualcuno ha risposto quella cosa lì adesso hanno sei anni non mi possono fare del male quando ne avranno anche solo 16 e non 26 però me lo faranno quindi io li fermo da piccola è il vecchio dilemma del del novecento no se avessi saputo con assoluta certezza che quel bambino lì e nella provincia austriaca all'inizio del novecento sarebbe diventato adolf hitler no l'avresti fermato gli avresti fatto qualcosa purché oppure no è quella vecchia domanda lì che si ripropone ogni volta che la storia commette qualche abominio e queste queste sono le domande che si ripropongono e a cui ovviamente non c'era risposta un secolo fa non c'era risposta dopo 45 non c'è risposta adesso però noi continuiamo a porci le domande senti un altro punto di vista di lettura del male che ho trovato veramente interessante è se il male si può quantificare perché a un certo punto quando c'è verso l'inizio del libro il conteggio di quei morti di quei feriti di quelle vittime che io elencato in apertura dell'incontro e marat dice il male si può quantificare ma più avanti quando c'è il prete il non so se si possa definire capellano in russia il carcere che è una figura che poi a un certo punto emerge con una fetta di importanza che all'inizio non non viene percepita dice al contrario dice il male non è quantificabile non si può misurare né paragonare e quindi alla fine il male è quantificabile è un'altra domanda che ci rimane lì sospesa guarda io è una domanda che che mi pongo da 35 anni adesso non mi ricordo insomma io ne faccio adesso 43 quando è che si fa la prima confessione a sette otto anni più o meno no perché ti tu andavi facetti facevi la confessione in chiesa e il prete ti dava un tre ave maria e due padri nostri no e poi parlavi col tuo amico diceva cavoli a me invece mi ha dato quattro ave maria e cinque padri nostri ci dicevamo e devi avergli detto qualcosa di peggio rispetto a qualcosa quello che gli ho detto io no e questa cosa qui però quella che era detta per gioco e se con innocenza tempo dopo un po' ho detto cavoli però vuol dire che questi quantificano il male cioè che se mi danno più ave maria a me rispetto a un altro vuol dire che c'è un male che è maggiore di altro e questo principio qui che è una sciocchezza però mi è ritornato in mente ragionando sul demone perché dicevo di fatto queste per questa persona questo sopravvissuto quello quello non il mio personaggio ma quello vero viene condannato e considerato mostro per questi morti ma lui magari ne ha ammazzati molto di più nel corso della sua vita però sono solo quelli che che contano e quindi in qualche modo si fa proprio la conta delle persone su cui lui ha avuto un contro cui ha commesso violenza e l'ho ribaltato la questione in qualche modo ho messo a lui questo pensiero che nasce sciocco glielo ho messo come ossessione dicendo voi per che cosa mi giudicate voi non sapete chi io sono mi giudicate solo per quei tre giorni lì ma io sono stato molto altro nella mia vita molto peggio ma anche molto meglio perché insomma non è che è stato dopo che tre mattine usciva e sparava la gente e mi giudicate invece solo per quello che io ho combinato in quei tre giorni lì questa cosa è un altro dei rovelli che io avevo nei confronti del personaggio reale e che ho trasferito poi insomma su maratte sulla sua sulla sua confessione ecco un altro discorso molto forte in questo libro è quello di trovare che è strettamente legato ovviamente a quello del male è il male che viene diciamo incarnato ho fatto azione dal terrorismo che in questo caso il terrorismo ceceno ma c'è un momento ed è sempre appunto il prete che si trova davanti a amara anzi ci sono due momenti secondo me uno quando entra quel pediatra che era sta che tenta di avere un ruolo di autore cerca di trovare un possibile dialogo un qualcosa un punto proprio concettuale dal quale partire a ragionare sul perché e quando loro gli danno delle risposte che sono sostanzialmente certo perché alla nostra gente è stato fatto questo questo quest'altro l'esercito è arrivato ha messo a ferro e fuoco ha distrutto lui quasi spiazzato dice vabbè ma alla fine allora è solo vendetta questa e questo è il primo tema del del meccanismo del terrorismo il secondo è il ragionamento che fa ancora questo prete che dice uccidere senza odiare è la cosa che mi fa più paura perché quando lui chiede ma perché loro perché non c'è un per l'altro e allora questo uccidere produrre del male non perché tu hai un odio o perché hai ricevuto del male da quella persona sulla quale tu decidi di eleggere vittima ma questa generalizzazione è un meccanismo trasversale del del terrorismo però giustamente lui dice è quello che mi fa più paura perché allora non esiste una vera causa scatenante non esiste un qualcosa che ti possa in qualche maniera giustificare in quello che fai ma allora in realtà quei due discorsi lì sono in parte due discorsi antitetici cioè che si contraddicono l'uno con l'altro perché da una parte rochelle che il pediatra che ha questa breve discussione insomma con con i terroristi quando tenta di fare la mediazione punta proprio su questo cioè sul fatto che dicevo vi state semplicemente vendicando come se non ci fosse una sorta di di dignità reale in quello che fate di originalità in quello che fate no reagite pavlovianamente qualcosa che vi vi è stato che è stato fatto però nello fatto stesso di una vendetta implica che c'è stata un'offesa quindi che c'è stato qualcosa di concreto nei confronti dei quali tu vuoi avere la tua la tua rivalsa no il discorso viene in parte ribaltato da padre alexieri nel carcere perché non parla più di cose concrete dice voi potreste ammazzare chiunque in nome del dolore che provate no però questo chiunque non ha diritto di essere ammazzato da voi perché non vi ha fatto non vi ha fatto del male direttamente e quindi sono due discorsi che 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 entrano proprio in conflitto come tutto il libro entra 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 in conflitto tutti i personaggi non sono mai completamente bianchi o neri eccetera c'è sempre una contraddizione e mi piaceva mettere sul piatto entrambe le visioni le visioni possibili perché la cosa che è stata molto difficile in realtà da capire per me capire ma entrare dentro l'ottica e che in realtà la strage di beslan come la il sequestro del teatro dubrovka dell'anno precedente o come tutta una serie di bombe nella metropolitana in dagestan insomma all'inizio degli anni all'inizio del millennio è stato particolarmente caldo nel caucaso in russia eccetera e quindi a noi si è presentata questa situazione come se fosse una situazione come dire nuova originale esploso il terrorismo in cecenia no in realtà quello che per me è stato più difficile da 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 inquadrare è che quando io ho cominciato a studiare poi ho scoperto una cosa che che non sapevo ma che la la guerra in in quei in quei in quei luoghi c'è da almeno due secoli no e così dico quando i i grandi padri della letteratura russa gli eromont of pushkin all'inizio del del dell'ottocento facevano poesie e poemi ambientati nel 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 caucaso o comunque nella parte meridionale russa avevano già a che fare quando parlavano di guerra di scontri eccetera avevano già a che fare con quel conflitto che 200 anni dopo ha portato a a beslanno quindi l'idea di andare a trovare delle ragioni personali o solo personali o strettamente politiche nel senso di basate su quello che sta succedendo qui e ora a grosni piuttosto che a mosca piuttosto che che da altri luoghi del del caucaso è in realtà una semplificazione perché tutto quello che succede succede da dalmeno dalmeno due secoli ecco io ho cercato di dare un po di di come dire di voce a tutte queste contraddizioni a tutti questi due secoli di 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 lotte intestina insomma è come fare un discorso tra israele e ambientare un libro in questo momento non so a tel aviv gerusalemme sul conflitto arabo israeliano bisogna tenere conto di di 60 anni 70 anni quanti sono ormai di di conflitto 70 anni l'ultima l'ultima versione insomma però bisogna tenere conto un po di tutto quello che è passato su sotto i ponti ecco a ron faceva questa considerazione dicevo incontrato una decina d'anni fa i bambini sopravvissuti di beslan difficile credere che diventeranno terroristi ma che compare anche nel libro cioè quando marat è detenuto da non sappiamo quanto tempo però è passato del tempo dal dalla strage c'è qualcuno forse ancora il il prete che gli dice beh ma quante di quelle donne sopravvissute o di quei padri sopravvissuti hai visto vendicarsi in questi anni per cui il tuo discorso del ci hanno fatto questo ma così come torna nel ragionamento di un bambino che dice voi state facendo alle nostre mamme a noi quello che altri non c'entrano con noi hanno fatto alle vostre alle fine siete uguali che il tema fa del male in maniera indiscriminata per una presunta vendetta sì sì assolutamente è quello ma è quello dal punto di vista nostro occidentale se se tu leggi parte gli atti del processo insomma malelettere che o certi dispacci certe interviste che vengono fatte al popolo che sono state fatte negli ultimi anni alla gente che viene dalla cecegna o a terroristi persone state arrestate eccetera questo discorso non viene mai toccato in questi termini perché per loro queste persone sono tutti in qualche modo conniventi con un sistema che le opprime da due secoli e quindi sono dei simboli delle vittime sacrificali lo sanno lo sanno benissimo che nessuno di quei bambini lì o nessuna delle mamme o nessuno dei papà ha imbracciato mai un fucile e lo farà mai non è quello il punto il punto che io colpisco il colpisco dei simboli colpisco il cuore di 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 quel sistema che mi tiene il come dire il tacco dell'anfibio sulla testa da due da due secoli è grosso modo lo stesso discorso che 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 fece che fece al cai da vent'anni fa no cioè non so benissimo che dentro lettori gemelle non c'è nessuno che ha fatto direttamente male a me però io le butto giù perché devo colpire quel il sistema che mi sta che mi sta opprimendo e più quel sistema è inerme e più quel sistema più la cosa che io colpisco è inerme è innocente quindi gente che non se l'aspetta bambini quindi gente che evidentemente non può avere fatto del male non può ancora avere l'ottica di fare del male più simbolicamente l'eco della mia azione è potente e arriverà da tutte le parti del mondo quindi più le mie istanze verranno ascoltate eccetera questo io non so se è non stavo dicendo non so se giusto o sbagliato ma in realtà lo so se se è giusto o sbagliato di fatto però è così che che ragionano o comunque è così che hanno ragionato quelli che hanno preso best line esatto e tu questa cosa la racconti e cerchi di raccontare appunto questo questa reazione all'oppressione soprattutto attraverso le donne perché di questi di queste 32 terroristi 11 erano donne 10 11 forse e per ognuna di loro quasi tu fai un insert di alcune pagine che racconta il perché si sono unite a questo gruppo di di e sono tutte donne che alle spalle ma come dice lo stesso marat noi abbiamo tutte alle spalle storie di morte di violenza di privazione della terra proprio di espropriazione dell'identità quasi allora quelle lì sono le storie delle delle vedove delle così le venivano chiamate i tempi le dove le vedove nere in realtà sono storie inventate ma tutte anche lì con un piede nella realtà nel senso che sono tutte mutuate da storie che io ho le cioè non sono le storie delle otto vedove che facevano nove vedove che facevano parte del commando ma sono storie di persone storie di donne cecene che io ho ripreso rimescolato riadattato in qualche modo alle esigenze narrative ma hanno tutto un fondo di verosimiglianza e di di realtà insomma e e me piaceva molto l'idea di 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 mettere in scena queste queste storie solo queste c'è solo queste nel senso solo quelle delle donne non quelle quelle degli uomini perché in realtà beh sì certo però mi piaceva l'idea di dedicare proprio dei capitoli singoli alle alle storie alle storie delle donne perché erano come dire delle figure molto più più emblematiche da un certo punto di vista e ai tempi anche più difficili da da digerire nel senso che le donne con la cintura del tritolo con con la cintura di tritolo mi ricordo le le foto delle vedo venere del teatro dubrovka no se ti ricordi c'è questa foto molto famosa con le donne ma avevano fatto un effetto molto potente molto forte molto più forte rispetto a quelle del classico terrorista maschio eccetera e quindi avevo come dire voluto studiare il motivo il perché c'erano queste persone che che avevano preso questa strada preso questa decisione anche perché uno degli archetipi insomma dei temi archetipici di 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 del demone beslan era una storia di madre e figli no cioè c'erano le madri e i figli dentro le dentro dentro la palestra sequestrate eccetera e c'erano anche delle persone che potenzialmente avrebbero potuto essere madri che invece erano lì con la cintura di tritolo di khalashnikov e quindi questo contrasto mi stimolava mi stimolava molto oltre che appunto erano storie quelle che avevo letto e sentito erano storie quasi sempre di o violenza domestica o stupri o insomma di di persone che avevano avuto una vita segnata o di vedovanza reale cioè con sposate con gente che era morta in guerra e facendo atti terroristi insomma erano tutte storie eh umanamente molto tragiche insomma e quindi era una storia che secondo me era interessante portare alla luce. Senti tu hai fatto prima riferimento agli atti processuali e io ti volevo chiedere oggi cioè che cosa esiste di consultabile di documentato e di di accessibile di quello che è successo in quei tre giorni all'interno della scuola perché ehm poi diciamo c'è anche il filtro del del della gestione dell'informazione da parte del di mosca ma allora infatti guarda all'inizio e ancora 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 oggi insomma non è non è facilissimo non mi è stato facilissimo trovare informazioni in rosso perlomeno non mi è stato facilissimo trovare informazioni che potevo considerare di prima mano super attendibili perché c'era tutta la controversia su di chi fosse la reale colpa no perché insomma la stragrande maggioranza dei morti del del terzo giorno perché poi sono 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 300 e rotte vittime 334 vittime nei tre giorni da quattro in quei tre giorni. Tra l'altro scusa posso fare un un insert perché nel 2017 la corte europea ha condannato mosca a pagare tre milioni di euro di risarcimento alle vittime che avevano fatto causa ritenendo che quell'incursione che era stata proprio cioè proprio senza diciamo anestesia di nessun genere ehm aveva contribuito a a a causare a a gravare il bilancio delle vittime quindi c'è stata veramente una pronuncia cioè se si guarda io ho guardato le perizie balistiche di 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 del blitz e di fatto la stragrande maggioranza di queste 334 persone a netto delle persone che sono state fucilate dai terroristi nei primi due giorni quindi penso il numero preciso non lo so sono morte eh non tanto perché per gli spari o perché c'è stata confusione sono state schiacciate dalla folla il tetto della palestra è crollato e aveva tra l'altro uno strato di gomma per impermealizzarlo che con il calore delle esplosioni è fuso quindi se voi guardate le foto dei cadaveri sono quasi tutti neri perché adesso hanno la gomma addosso c'è una roba terrificante ma bombardato dall'epicottero della della milizia è stato bombardato dall'esterno per cui cioè se io mi faccio saltare per aria dall'interno come all'inizio dicevano che era successo no queste hanno attivato le cinture di tritolo e si sono fatte saltare per aria hanno fatto 300 morti ma se io mi faccio saltare per aria dall'interno il tetto va verso fuori no se le vado da dentro e verso fuori invece il tetto è caduto dentro quindi vuol dire che si è sparato da fuori però questa cosa qui prima che venisse fuori ci è voluto ci è voluto il 2016 era venuta fuori prima da alcuni reportage non in russo ma fatti per esempio mi ricordo per peace reporter da due giornalisti francesi o quello che ti dicevo prima mentre chiacchieravamo io ho incontrato grazie poi alla da questo libro una persona che purtroppo non c'è più che è un fotografo italiano che è andy rocchelli che è stato ucciso poi appunto in ucraina nel 67 anni fa insieme a un una persona che stava con lui mentre faceva tutta una serie di reportage nel donbass dove adesso putin sta rientrando insomma con con i carri armati eccetera lui era 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 andato lì immediatamente dopo aveva fatto le foto aveva visto di spazio aveva visto le i report ecco lui poi si era insomma parlato parlato a lungo di questa cosa qui che era stato molto molto difficile recuperare delle notizie delle notizie certe una delle fonti che ancora c'è c'è in in russo e in inglese il sito della fondazione delle madri di beslan che è da una parte un sito di come dire di memoria di celebrazione dei morti perché insomma io io vivo vivo a bologna ci sono delle associazioni analoghe sulla strage della stazione del 2 agosto no ecco lì è successo c'è stata non c'è una cosa una cosa del genere cioè le sopravvissuti della palestra o questa comunità allargata che si è stretta intorno a queste persone perché poi tenete conto che deslan è un posto di 34 mila abitanti 1200 dei quali erano dentro lì con 800 900 bambini adolescenti insomma 800 adolescenti 800 bambini su 30 mila persone non dico che sono tutti i bambini di una città però però significativa è una cosa molto significativa quindi diciamo che quell'associazione delle madri delle madri di beslan che appunto è un questo sito bilingue eccetera è da una parte un'associazione di di memoria di di compianto dall'altra parte è come le madri di piazza di maggio una un'associazione che sta tentando di stabilire la verità sta chiedendo anche delle degli aiuti per per esempio il supporto psicologico perché una cosa che non si dice mai a proposito della strage di veslan e in generale delle delle stragi è che negli anni successivi a al 2004 insomma quando è successo questa questa cosa molte persone ma anche ragazzini sono caduti in depressione da cui non sono più usciti o hanno avuto delle forme di disabilità anche fisiche perché sono tra i feriti c'era anche gente che si è beccata una pallottola nella schiena insomma quindi non cammina più c'è ma ci sono stati anche molti casi di suicidio dovuti alla depressione dovute alla solitudine tutta tutta una serie di 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 fenomeni su il cui cappello è che di fatto queste persone finito il cordoglio e come dire la la giostra mediatica intorno a a quattro giorni lì sono stati lasciati soli se sei stato lasciato solo e avevi otto anni e hai perso la mamma e il papà diventa un problema gigante le madri di baslan stanno tentando per quanto sia loro se loro possibile ma con aiuti che arrivano anche dall'estero insomma eccetera e supporto che arriva dall'estero di far fronte a questa situazione che adesso ovviamente è meglio rispetto a com'era dieci anni fa però ancora risolto c'è proprio un paese che ferito che non si solleva più insomma da ci vorranno delle generazioni prima che questa cosa diventi una un passato nero ma sono passato con cui conti si sono si riescono a fare ecco senti allora il io rimostro il questo libro molto bello e ripeto un libro veramente necessario il demone abeslan bollati boringhieri tra l'altro è uscito è stato rieditato da da poco perché quando è uscito il 21 di febbraio 21 febbraio paio di mesi febbraio 2021 ma giovedì 22 aprile tra quattro giorni andrea esce con un nuovo un nuovo libro che è un'antologia pubblicato dal saggiatore dal titolo racconti di demoni russi tu hai già una prima di questo libro eccolo lì e dici di cosa ma allora guarda cioè faccio una solenne promessa che non metterò più la parola demoni nel titolo qualsiasi libro io faccia eccetera però questo qui in realtà è un titolo che mi hanno proposto cioè mi ha telefonato saggiatore un giorno andrea gentile direttore editoriale del saggiatore e mi e mi ha chiesto guarda ci fai una antologia della letteratura russa degli ultimi due secoli ottocento e prima metà del novecento per questo anche dei diritti d'autore cioè insomma dai classici insomma alla letteratura del novecento con tema i demoni con tema una grande icona della letteratura russa e io è stata una cosa che divertentissima da fare perché è stato proprio bello nel senso che sono tornato a studiare sono tornato a riguardare delle vecchie cose che non guardavo dai tempi dell'università eccetera e alla fine ho costruito questo percorso che è in due momenti fondamentalmente il primo sono proprio i demoni immaginari quindi quelle storie dove ci sono i diavoli le streghe le 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 dei demonietti le le fatte cattive sì per esempio di dostoevsky c'è quell'estratto dei dei fratelli karamazov del colloquio con ivana il diavolo che è uno dei momenti in assoluto più alti sia dei karamazov che della della produzione dostoevskiana però è uno di quelli meno meno sponsorizzati nel senso che devi scegliere un grande momento dei fratelli karamazov pensi immediatamente al grande inquisitore o a invece c'è anche il diavolo c'è ovviamente alcune cose che non si potevano mettere tipo il ballo di satana ha messo margherita di bulgakov il monaco nero di ceco eccetera google c'è il v che è un racconto ucraino del molto esperato al folklore eccetera proprio ci sono anche un po di chicche c'è di autori che per un motivo per l'altro e la lettera letteratura scusa l'editoria del novecento ha trattato un po male platonov remisov salagub di cui c'è praticamente in giro solo il demone meschina con altro demone c'è che però scritto dei racconti che sono pazzeschi bellissimi saltikov cedrin marina svietaieva con una roba in prosa non in poesia perché la svietaieva si trova quasi tutto in poesia ma non si trova proprio tutto tutto in prosa perlomeno roba che è andata fuori catalogo da un po di anni quindi insomma ho tentato di recuperare un po anche qualche qualche chicca dato un racconto che è il fiore rosso di garshin che è un racconto ambientato in manicomio scritto nella seconda metà dell'ottocento da questo garshin che si è suicidato a 32 33 anni che era anche lui un po matto insomma continuava ad entrare uscire nei manicomi e ha scritto questo racconto che è un racconto bellissimo citato da tutti gli scrittori russi arrivati dopo di lui non so cecov gli lo cita nella nella corsia numero 6 eccetera e questo è uno che si è si è ammazzato giovane prima di scrivere il grande romanzo e ha lasciato di fatto poche cose tra cui questo fiore rosso che racconto bellissimo che però appunto in staglia è un po maltrattato perché avendo scritto un solo racconto sono già non è scritto solo racconto ma un solo racconto davvero importante editorialmente difficile da piazzare allora l'ho messo perché aveva parte un senso con con il con il tema e l'argomento ma anche per una questione non direi filologico ma di recuperare una una grande penna che che è un po dimenticata quindi c'è dentro anche non so non so quattro o cinque giganti dimenticati e io voglio bene a tutta la letteratura russa in particolare da staglia eccetera però se devo scegliere di dire un motivo per comprare questa antologia è ci sono dei giganti dimenticati lo staglia si lo trovate sicuramente nella libreria in casa vostra ma garcin magari no e merita tanto quanto ecco allora grazie ad andrea tarabbia leggete il demone abenzato perché noi abbiamo detto questo libro ma non abbiamo detto tutto ci sono una serie di aspetti che comunque meritano di essere letti per esempio non abbiamo toccato il tema della detenzione in carcere e che insomma stare in carcere non è una passeggiata da nessuna parte in alcuni paesi del mondo lo è di meno dentro ci facciamo un'idea e poi leggete racconti di demoni russi quando uscirà giovedì perché come tutte le antologie oltre ad essere una scoperta di di nuovi autori diventa spesso anche spunto per andare a leggere o rileggere qualche pezzo che ci manca nella nostra come dire nel nostro background di stori appassionati grazie andrea e grazie a tutti voi che state là fuori grazie paola grazie a tutti buona serata